Grazie 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 Voi dovete tenere conto che la pala che rimbalza sul corpo in anime di Bossini che giocava. Voi dovete tenere conto che la pala che rimbalza sul corpo in Bossini che giocava. Voi dovete tenere conto che la pala che rimbalza sul corpo in anime di Bossini che giocava. 0-3 0-4 0-6 0-7 0-7 0-7 0-9 A 0-9 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 Stai sti bene! 2 e 6! Che cazzo! Io non ho detto che stai attento a quelli! E cioè perché stai un po' dentro della vita! Balla! Balla! Parà! 3! 22! Campo coppia! Vincono! Cartabani-Frosio! Vittamente sugli altri! Raccogliere poi l'unica e lanciano via Cartabani! Vittorio! 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 Vittorio!